Il mostro Mike Tyson è uno dei combattenti più brutali e spietati nella storia del pugilato mondiale e i suoi knockout provocavano una paura selvaggia e indescrivibile nei suoi avversari, e grande eccitazione nel pubblico. Al culmine della sua carriera, l'intera divisione dei pesi massimi tremava di paura davanti a Tyson, ma c'era un avversario che era rispettato e persino temuto dallo stesso Iron Mike, questo implacabile assassino, che non conosceva il senso della misericordia, si chiamava Donovan, Razor, Ruddock. Era in una serie di 15 vittorie consecutive, e in 13 di queste aveva brutalmente messo K.O. i suoi avversari, rubando loro l'anima. Donovan Ruddock, soprannominato Razor, usava il suo caratteristico colpo, Smash, nei suoi combattimenti, un ibrido tra un gancio e un montante. Questo pugno tagliava letteralmente fuori tutti gli avversari di Razor. La sua potenza era così terrificante che grandi nomi dell'epoca, tra cui Mike Tyson, Evander Olifield e Riddick Bowie, evitarono di combattere contro di lui. Tyson firmò un contratto per combattere contro Ruddock e l'incontro era previsto per novembre 1989, ma improvvisamente Mike si ritirò dal combattimento sostenendo di avere la bronchite. Meno di tre mesi dopo, Tyson affrontò Buster Douglas. Olifield rifiutò anche lui di combattere contro Razor e scelse come avversario il grande ma già anziano George Foreman, e la stella nascente Riddick Bowie rifiutò di prendere il combattimento senza dare spiegazioni. Molti pensavano che Tyson avesse paura di tagliarsi contro il «rasoio» e per questo non accettò il combattimento. In attesa della sua opportunità di affrontare Iron Mike, Ruddock non rimase con le mani in mano e demolì brutalmente tre avversari di fila, impiegando meno di otto round totali per tutti loro. Commettendo letteralmente un genocidio nella divisione dei pesi massimi, Ruddock non lasciò scelta a Tyson, costringendolo ad accettare il combattimento con lui. Poco prima di quel momento, Tyson scioccò il mondo ricevendo la prima sconfitta della sua carriera, essendo stato messo KO dal numero 7 del mondo, Buster Douglas. Dopo ciò, l'agente iniziò a dire che Iron Mike non era più lo stesso, che era cambiato e aveva perso fiducia perché non era più imbattuto, Ruddock era molto sicuro di sé e non si tratteneva nelle espressioni, non sarà un combattimento difficile come l'agente dice. Inoltre, Ruddock sottolineò che era più forte di Tyson, penso di poter colpire più forte di lui e penso di poter boxare meglio di lui. L'eccessiva fiducia di Razor fece infuriare Iron Mike che rispose in modo emotivamente carico, se non muore, non conta. Se non è morto, non conta. Il giorno dell'incontro, gli occhi di tutti i fan di questo sport da gentiluomini erano incollati agli schermi TV. Le parole di Ruddock colpirono Tyson nel profondo e questa sfida divenne per lui una questione di principio. Dal canto suo, Ruddock non vedeva l'ora di battere il grande avversario di fronte a Mike Tyson e ottenere un biglietto per l'elite del pugilato mondiale. L'interesse per questo incontro era alimentato dal fatto che il vincitore avrebbe automaticamente ottenuto il diritto di combattere per il titolo. Dal primo secondo del combattimento era evidente come entrambi i pugili cercassero di finire l'altro il prima possibile caricando ogni pugno. Tyson impostò il ritmo dell'incontro e senza paura entrò a corto raggio contro Ruddock, svalutando i suoi potenti colpi. Nei primi round, Tyson fece una fulminea incursione e agganciò Ruddock con il piede, il che non fu visto dall'arbitro che segnò il knockdown. Le parole di Donovan riguardo al possesso del pugno più forte potevano essere vere, ma lo stile scomodo di Tyson non sempre permetteva a Ruddock di lavorare nel suo solito modo. Ruddock rispose colpendo Iron Mike con il suo caratteristico smash, ma Tyson gli ricordò perché era chiamato l'uomo più cattivo del pianeta, costringendo Ruddock a sedersi. Fortunatamente per Ruddock fu salvato dalla campana. Nonostante l'assalto di Tyson, Ruddock non si arrese e continuò a credere nel suo devastante colpo. Nel settimo round, Ruddock abbassò la guardia per un secondo, diventando un bersaglio facile. Tyson approfittò del momento e trasformò la testa di Razor in una campana oscillante. L'arbitro fermò bruscamente il combattimento, registrando il KO tecnico, ma secondo molti fu un'interruzione precoce. Tyson festeggiava la vittoria mentre Ruddock e il suo team mostravano chiaramente il loro disappunto per l'interruzione anticipata. Questa interruzione causò una forte reazione nella comunità del pugilato, richiedendo un immediato rematch tra i pesi massimi. La decisione finale di Iron Mike nel rematch fu influenzata dalle parole del campione Ivan de Rolifield, con cui Mike voleva incontrarsi sul ring il prima possibile. Entrambe le parti riuscirono a concordare sull'organizzazione del secondo incontro. Il rematch ebbe luogo solo tre mesi dopo. Tyson entrò nel combattimento con determinazione ed era pronto a letteralmente mangiare Ruddock. Desideroso di porre fine a tutte le controversie inutili e battere la falsa sicurezza dalla testa di Donovan. L'incontro si trasformò rapidamente in una battaglia. Iron Mike era così ansioso di finire il suo avversario che non sentì il gong. Ruddock non apportò cambiamenti al suo piano di gioco dal combattimento precedente, cercando di colpire la testa di Tyson con i suoi smash. Dal canto suo, la tattica di Iron Mike era semplice, distruggere il suo avversario. Già nel secondo round Tyson costrinse Ruddock a piegare il ginocchio. Ruddock non si arrese e tornò a combattere, continuando a rispondere a Mike. Tuttavia, nel quarto round, Tyson raffreddò l'ardore di Razor con un contrattacco, mandandolo a testare la morbidezza del pavimento. Tyson dettava il ritmo del combattimento, ma nel sesto round avvenne ciò che tutti i fan di Iron Mike temevano. Ruddock colpì finalmente con il suo famoso smash. Il colpo era così forte che il paradenti di Mike volò fuori dalla sua bocca. Sembrava che Mike fosse finito, ma Tyson digerì quel pugno come un pranzo, rispondendo con un dominio totale sul suo avversario. Alla fine, l'uomo che aveva promesso di finire Tyson con uno smash fu brutalmente demolito da Tyson. Nonostante la sua altezza, Tyson sembrava più alto di Ruddock, ma una cosa era certa. Iron Mike aveva incontrato un avversario con cui poteva competere in brutalità primordiale per la prima volta. La decisione unanime del rematch rese omaggio alla resistenza di Donovan Ruddock, che combatte con una mascella rotta per la maggior parte dell'incontro. Quella fu l'ultima volta che il pubblico vide un Mike Tyson al massimo della forma. Dopo questo incontro, ci fu una serie di eventi spiacevoli che lo portarono a essere accusato di stupro e imprigionato. Dopo aver trascorso i suoi anni migliori in prigione, non sarebbe mai più stato lo stesso. Anche Razor, avendo apparentemente perso la sua vecchia acutezza, perse successivamente i combattimenti più importanti della sua vita. Tuttavia, Mike Tyson e Donovan Ruddock regalarono al mondo un combattimento spettacolare e una storia brillante che sarà ricordata per sempre. Per questo video è veramente tutto. Una buona notte da Blend Trend.